Ciao a tutti, ben ritrati e benvenuti per chi non fosse mai passato sul mio canale. Questa notte e questa mattina Bitcoin, come tutto il mondo cripto, ha subito un forte ritracciamento. Andiamo un attimino a vedere cosa è successo, ma soprattutto perché è successo. Andiamo a vedere cosa ha fatto Bitcoin dai primi di settembre, perché dopo un calo tra gli 11,6 e i 10,2, stiamo parlando ovviamente del controvalore in dollari, ha avuto il mese di settembre fino alla metà di ottobre, a fine ottobre, due mesi, una quarantina di giorni abbastanza tranquilli, dove Bitcoin ha lateralizzato. Avvicinandoci al periodo delle elezioni, quindi incertezza e anche l'arrivo delle notizie di Paypal, il prezzo di Bitcoin ha iniziato a salire non tanto in modo organico quanto esponenziale. Vediamo il grafico, dal 23 di ottobre ad oggi il prezzo ha un gap tra i 12,5 e i 19,4, quindi ha quasi raddoppiato il suo valore nel giro di 30 giorni, una crescita a mio avviso esponenziale, troppo forte e bisognava in un qualche modo aspettarsi un ritracciamento simile. Sono sincero, ne avevo parlato nel primo video, chi non l'avesse visto può andarlo a vedere, mi aspettavo un ritracciamento, ma mi aspettavo un ritracciamento non adesso, me lo aspettavo un po' in anticipo, quindi circa una settimana, una settimana e mezzo fa, perché, devo ammetterlo, mi ero abbastanza convinto, settimana scorsa dopo aver visto il prezzo di Bitcoin che continuava a salire, che avrebbe mantenuto questo trend fino a fine 2020. Non è stato così, ma nessun problema, io vedo questo ritracciamento come un qualcosa di positivo, andiamo a vedere perché. Abbiamo bloccato sicuramente un trend non salutare, quindi una crescita troppo rapida e troppo alta, e questo è già un bene che l'abbiamo in un qualche modo bloccato. In più, ogni volta che avviene un ritracciamento così importante, noi dobbiamo vederlo come un'opportunità di acquisto. Bitcoin ci dà la possibilità ancora di entrare a prezzi interessanti e quindi io direi che non bisogna lasciarsi scappare queste opportunità. Il prezzo ovviamente potrebbe scendere ancora di più rispetto ai 16,5 che vedete in schermata, quindi dobbiamo monitorare, però potrebbe essere un momento giusto per entrare. Discorso differente da chi sta investendo in Bitcoin con un dollar cost averaging o un piano di accumulo di capitale. Potrebbe essere interessante, in parallelo ad una di queste due strategie, andare ad acquistare con fondi esterni un'altra piccola fetta di Bitcoin. Potrebbe essere questo interessante. Andiamo a vedere perché Bitcoin ha subito questa enorme correzione. Molti danno la colpa al tweet di Brian Armstrong di questa notte, dove Brian, che è il fondatore e CEO di Coinbase, ha annunciato di essere a conoscenza di alcuni rumor, secondo cui negli Stati Uniti si vuole implementare una regolamentazione più o meno stringente alla detenzione e all'utilizzo di portafogli non custodial. Per chi non conoscesse il significato di portafogli non custodial, molto semplicemente i portafogli non custodial sono quelli di piena proprietà dell'individuo. Non utilizziamo piattaforme exchange o portafogli non di proprietà come quelli che si trovano su Binance, su Coinbase, su Kraken. Sono portafogli al 100% di nostra proprietà di cui deteniamo le chiavi private. Quindi il governo statunitense vorrebbe imporre delle regolamentazioni come quelle AML e KYC seguite dagli exchange, vorrebbero implementare queste regolamentazioni o similari a portafogli non custodial. Brian, dopo questo primo tweet, aggiunge numerosi altri tweet spiegando alcuni colli di bottiglia che il governo avrebbe nell'implementazione pratica di queste regolamentazioni. In più afferma che queste regolamentazioni arrecherebbero dei danni su alcuni casi d'uso delle criptovalute. Perché il mondo cripto in questo momento non è soltanto un mondo economico, ci sono anche altri interessi importanti. Questa notizia ha cosso il mercato e ha probabilmente causato questo ritracciamento. Vediamo se il prezzo scenderà ancora di più o ritornerà a salire, speriamo non in modo esponenziale ma in modo organico. Per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un mi piace, mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mio canale. E come sempre vi mando un grossissimo saluto e ci vediamo ad un prossimo video.